Sentite questo fastidioso rumore? È una cima che non ha un ammortizzatore. Se si deve dormire e la cabina sta sotto la bitta è un vero inferno. Questo è un ammortizzatore leggero perché è tutto in gomma, non ha parti in acciaio, però ha il vantaggio di essere trasportabile e di essere estivabile facilmente. Adesso vediamo come funziona e quali sono i vantaggi di avere un ammortizzatore totalmente in gomma e senza parti in movimento. Ecco, ho preparato e montato questo ammortizzatore dell'azienda italiana Inmare e adesso vi voglio presentare. Allora, non farò altro che metterlo in trazione e vedremo come si comporta. Stiamo parlando di un ammortizzatore che pesa un terzo rispetto agli classici ammortizzatori a molla in acciaio e questo è fatto per la dimensione di questa barca, che è un 57 piedi e adesso io ve lo metterò in trazione e vedremo come si comporta. Avete visto come si è teso e come ha funzionato bene questo ammortizzatore? Come vedete è totalmente in gomma, non ha parti in movimento, questa gomma resiste ai raggi UV e quindi ha una durata forse addirittura superiore all'acciaio. La cosa interessante è proprio il fatto che sia leggero e che si possa stivare e posso sempre stare dentro i gavoni.